C'era una volta una dolce bimbetta, solo a vederla le volevano tutti bene. La nonna una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso e poiché le donava tanto ed ella non voleva portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse, vieni Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino, portali alla nonna, è debole e malata e si ristorerà. Si gentile, salutamela per me e va da brava senza uscire di strada. Si farò tutto per bene, promise Cappuccetto Rosso alla mamma e le diede la mano, ma la nonna abitava fuori nel bosco, a una mezz'ora dal villaggio. Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. Buongiorno Cappuccetto Rosso, disse questo. Grazie lupo. Dove vai così presto Cappuccetto Rosso? Dalla nonna. Che cos'hai sotto al grembiule? Vino e focaccia per la nonna debole e vecchia. Ieri abbiamo cotto il pane, così la rinforzerà. Dove abita la tua nonna Cappuccetto Rosso? A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce. Là c'è la casa e sotto c'è la macchia di noccioli. Lo saprai già, disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò fra sé. Questa bimba tenerella è un buon boccone prelibato per te. Devi fare in modo di acchiapparla. Fece un pezzetto di strada con Cappuccetto Rosso e poi disse. Guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, Cappuccetto Rosso. Perché non ti guardi attorno? Credo che tu non senta neppure come cantano gli uccellini. Te ne stai tutta seria come se andassi a scuola. Ed è così allegro il bosco. Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli alberi e tutto intorno pieno di bei fiori, pensò. Se porto alla nonna un mazzo di fiori, le farà piacere. È così presto che arriva ancora in tempo e corse nel bosco in cerca di fiori. E quando ne aveva colto uno, credeva che più là ce ne fosse uno ancora più bello. Correva lì e così si addentrava sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. Chi è? Cappuccetto Rosso, ti porto il vino e focaccia, aprimi. Non hai che da alzare il saliscendi, gridò la nonna. Io sono troppo debole e non posso alzarmi. Il lupo alzò il saliscendi, entrò e senza dir motto andrò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia e si corricò nel letto e tirò le cortine. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori e quando ne ebbe raccolti tanti, che più non ne poteva più portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. Quando giunse si meravigliò che la porta fosse spalancata ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò. Oh Dio mio, che paura oggi e dire che di solito sto così volentieri dalla nonna. Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. Oh nonna, che orecchie grandi che hai per sentirti meglio. Oh nonna, che occhi grossi che hai per afferrarti meglio. Ma nonna, che bocca spaventosa per divorarti meglio. E come ebbe detto queste parole il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. Poi con la pancia bella piena si rimise al letto, si addormentò e incominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò di lì davanti il cacciatore che pensò tra sé. Come russa la vecchia, devi darle un'occhiata se ha bisogno di qualcosa. Entrò nella stanza e avvicinandosi al letto vide il lupo che cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo quando ad egli gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora salvarla. Così non sparò, ma preso un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare il Cappuccetto Rosso e poi altri due, dopo altri due, la bambina salto fuori gridando. Che paura ho avuto, era così buio nella pancia del lupo. Poi venne fuori anche la nonna ancora viva e Cappuccetto Rosso andò a prendere dei grandi pietroni con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò fece percorrere via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore prese la pelle del lupo. La nonna mangiò la focaccia e beve il vino che aveva portato Cappuccetto Rosso e Cappuccetto Rosso pensava mai più correrò da sola nel bosco lontano dal sentiero quando la mamma me l'ha proibito. Raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna e un altro lupo le aveva rivolto la parola cercando di convincerla a deviare dal sentiero. Ma Cappuccetto Rosso se ne guardò bene andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver visto il lupo che l'aveva salutata guardandola però con occhi feroci. Se non fossimo stati sulla pubblica via mi avrebbe mangiata. Vieni disse la nonna chiudiamo la porta perché non entri. Poco dopo il lupo bussò e disse apri nonna sono Cappuccetto Rosso ti porto la focaccia. Ma le due zitte non aprirono. Allora il malvagio gironzolò per un po' intorno alla casa e alla fine salì sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso uscisse di sera. Ma la nonna capì le sue intenzioni. Davanti alla casa c'era un grande trogolo di pietra ed ella disse alla bambina prendi il secchio Cappuccetto Rosso. Ieri ho cotto le salsicce. Porta nel trogolo l'acqua dove hanno bollito. Cappuccetto Rosso portò tanta acqua finché il grosso trogolo fu ben pieno. Allora il profumo delle salsicce salì fino alle narici del lupo. Egli si mise a fiutare e sbirciare giù. Alla fine allungò tanto il collo che non poté più trattenersi e incominciò a scivolare. Scivolò dal tetto proprio nel grosso trogolo e affogò. Invece Cappuccetto Rosso tornò a casa tutta allegra e nessuno le fece del male.